Dove c'è Pino che ti dà un consiglio, ciao Pino, ormai sono mesi che ti seguo e anche se non sono né un medico né uno psicologo, vorrei consigliarti un esperimento per farti guarire dalla tua incazzatura semile, perché per una volta nella tua vita non provi a puntare la sveglia alle 6 del mattino e ad andare a lavorare, piuttosto che svegliarti a mezzogiorno e non fare un cacchio, il lavoro oltre a non visitare l'uomo lo rende anche più mite e gioviale, sorridi un poco che la vita è bella, vagabondo, paezizio, pezzo di merda, tu l'unica cosa che hai in comune con me è nome, basta, merdaccia, io ho scaricato camion per 35 anni in fabbrica, coglione, oltre a fare 18 album, coglione, hai capito, prova tu a andare a lavorare invece di metterti acquistore davanti al computer, pezzo di merda, tu e chi ti ha messo al mondo, perché saranno delle merda come te sicuramente.